Può questa maggioranza trovare un nome che faccia? Lo chiede a loro. La seconda, sulle elezioni anticipate, ho detto prima che è essenziale per continuare l'azione di contrasto alla pandemia, per continuare l'azione di rilancio della crescita, per continuare l'attuazione del PNRR, che la legislatura va davanti fino al suo termine naturale.